Eccoci qua, ancora poche ore e saremo in questa bellissima arena qui a Gerusalemme per giocarci ancora le nostre possibilità di credere soprattutto in questo passaggio del turno Euro Cup. Sarà una gara durissima, ne abbiamo la consapevolezza, ma vogliamo dare tutto fino all'ultimo secondo per fare una grande vittoria esterna e poi giocarci tutto eventualmente nella partita successiva. Quindi tanto cuore, orgoglio e la voglia di stupire ancora.